Sarà il campo come sempre a decidere quale sarà la squadra da battere nel giro in A del prossimo campionato di eccellenza. Il Biceglie, pur avendo scelto di partire con un profilo basso, ha comunque il dovere di puntare ad una stagione importante. C'è da riconquistare infatti la fiducia di una tifoseria scottata dalle ultime cocenti delusioni, c'è da ricreare il giusto entusiasmo nell'ambiente nerazzurro stellato. Compiti affidati a Franco Cinque, tecnico esperto della categoria che traccia il bilancio sul ritiro svolto in Abruzzo a Fara San Martino. Credo che i ragazzi abbiano trovato un forte equilibrio emotivo, per cui stanno lavorando bene in simbiosi, si stanno divertendo e questo credo sia fondamentale per migliorare la qualità del lavoro. Sono tanti i volti nuovi del Biceglie, l'ingaggio più significativo e inutile nasconderlo è quello di Nicola Sderito, l'attaccante argentino, ha già lasciato il segno dieci anni fa con la maglia nerazzurro stellata e vuole ripetersi a suon di gol. Ho deciso di tornare perché per me questa piazza è molto importante, ho vissuto dei momenti bellissimi e in questo momento di difficoltà volevo stare qua e poter aiutare al Biceglie a tornare a quello che è stato negli ultimi anni. Il gruppo è una squadra giovane con qualche inglese di esperienza che sta lavorando bene, dobbiamo migliorare ancora tanto, la nostra forza deve essere il gruppo, quello che stiamo facendo qua in ritiro è questo, di rafforzare il gruppo, di rafforzare i coccetti del mister e poter arrivare alla prima di Coppa con un gruppo forte. Sarà un attacco al biseleste quello del Biceglie, tra le frecce a disposizione dell'arco di 5 infatti c'è anche Juan Bautista Salguero. Mi aspetto che possiamo portare il Biceglie al posto dove merita, sono consapevole di cosa significa questa piazza quindi lascieremo tutto per riuscire a questo obiettivo. Capitolo mercato, di sicuro verrà potenziata numericamente e qualitativamente la pattuglia degli Juniors da non escludere anche novità per quanto concerne il parco senior. Con il direttore facciamo ogni giorno le giuste valutazioni, perché insomma seguiamo gli allenamenti e chiaramente facciamo delle valutazioni, per cui sono cose che vedremo e vediamo con la società. Mercoledì 17 agosto è in programma la ripresa degli allenamenti presso il centro sportivo Ponte Lama di Trani, già fissate le prossime tre amichevoli, sabato 20 a Gravina martedì 23 al Dilido contro il Città di Trani e venerdì 26 al Ponte Lama contro il Bari Primavera.